Ido Roscio di AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena dedicato ai piani individuali di risparmio è arrivato anche a Milano, dove presso la Clubhouse Brera sono stati invitati clienti dell'area che fa riferimento al capoluogo lombardo. A fare l'onore di casa Arturo Martinelli, direttore commerciale e private dell'area territoriale nord-ovest di Banca MPS che ha sottolineato l'importanza del momento di incontro. Mi piace anche poter dire che è un momento di comunicazione tra le persone e fare in modo che le nostre persone possano ben confrontarsi con la nostra clientela e riuscire a dare motivazioni, soluzioni e un servizio che ci contraddistingue in termini di qualità e di eccellenza. A presentare la Polizia Peer Unit Multifondo Italia è stato poi Francesco Barorini, Head of Marketing and Distribution di AXA MPS Financial, che ne ha sottolineato tre caratteristiche principali. Il primo elemento è che si tratta di una soluzione peer compliant, quindi aiuta l'economia italiana e le piccole e medie imprese e lo fa erogando dei vantaggi fiscali evidenti ai clienti che decidono di rimanere investiti per almeno cinque anni. Il secondo punto è che come AXA abbiamo sviluppato una soluzione multifondo e quindi in grado di essere personalizzabile e di potersi adattare ai più disparati profili di rischio della clientela. Il terzo punto è che per fare tutto ciò avevamo bisogno di una rete commerciale di grande valore aggiunto e questa è proprio la rete del Monte dei Paschi di Siena con cui noi collaboriamo da più di dieci anni e che in tutto questo periodo ci ha dato veramente prova di avere una straordinaria capacità di consulenza sui portafogli dei suoi clienti. All'incontro milanese ha preso parte anche Paolo Panariello, responsabile dell'Ufficio Advisor and Capital Markets di MPS Capital Services che ha affrontato il tema del supporto alle PMI e dell'impatto peer anche per il settore corporate. Anche per il mondo corporate il fenomeno peer assume sicuramente una valenza strategica in quanto consente alle aziende piccole e medie del tessuto imprenditoriale italiano di rinforzare il patrimonio, di diversificare le fonti di funding tradizionalmente legate al sistema bancario e di allungare la scadenza del debito che oggi è troppo esposta al breve e che con questo strumento può allungarsi su una maturity più lunga.